Benvenuti a Motore Salute Europa. La medicina narrativa sta prendendo un importante rilievo nel panorama europeo ed internazionale. Ce ne parla la dottoressa Matilde Leonardi della Fondazione IRCS Istituto Neurologico Carlo Besta. Dottoressa Matilde Leonardi, cos'è la medicina narrativa? La medicina narrativa è una procedura che viene utilizzata da anni nell'ambito della relazione medico-paziente e serve a raccogliere in maniera organica il pensiero di come il paziente vive la sua vita con una malattia. Questo viene fatto attraverso un processo che noi qui in ricerca abbiamo cercato di standardizzare e noi la usiamo con successo nei pazienti cronici perché è un sistema per poter mettere ordine nella propria vita nel momento in cui c'è una malattia. Narrare significa in un certo senso anche curare. Quali sono i progetti del Besta relativi alla medicina narrativa? Perché è importante nel settore neurologico la medicina narrativa? La neurologia è una delle discipline per eccellenza rispetto alle malattie croniche. Sicuramente il paziente con malattia cronica che vive ogni giorno con la propria malattia non può essere la malattia che è. Un paziente ha una malattia ma la persona resta persona malgrado la malattia e quindi la medicina narrativa permette di raccontare e di raccontarsi in una tentativa di mettere ordine nel proprio vissuto nella propria vita e questo permette a noi ricercatori di identificare ad esempio quali sono elementi che possono facilitare l'aderenza terapeutica perché una persona che ha una malattia cronica deve curarsi ogni giorno. Quali sono gli elementi che permettono di avere un maggior successo nell'ambito di un percorso condiviso tra il paziente e anche con la famiglia perché ci può essere una triade paziente, famiglia, la narrazione può essere individuale o del gruppo e questo noi lo facciamo sempre nell'ambito di una ricerca biopsicosociale cioè la persona nel suo ambiente, la persona racconta se stessa, racconta se stessa con la malattia e racconta se stessa nell'ambiente in cui vive con questa malattia.